Ciao, sono Carlo Atta, lui è Marco del Torampa, che oggi ci presenterà appunto i fusilli filanti dell'ampa. Esatto. Allora, avremo bisogno di le classiche verdure per fare il soffritto, quindi cipolla, sedano, carota, dopodiché un pezzo di mozzarella per pizza, del pesto, dei peperoncini, del grana grattato, della passata di pomodoro, olio, sale e pepe e i fusilli. Prepariamo le verdure per fare il soffritto. Perfetto. Tela, patate rosa per te. Grazie. Carota per te. Grazie. E sedano per me. Tagliamo la cipolla. Prepariamo il sugo? Sì. Quindi, soffritto, olio, in padella, aggiungiamo carota, sedano e cipolla. Procediamo aggiungendo la passata di pomodoro. L'acqua bolle ed è già stata salata, quindi direi che è il caso di buttare i fusilli. Tu intanto taglia la mozzarella a cubetti. Sì, capo. Aggiungiamo il pesto al nostro sugo. Aggiungiamo di sale. Durante la preparazione del sugo vi consiglio di assaggiarlo. Se sentite qualche nota acida potreste correggere con un po' di zucchero. La nostra pasta è pronta. Pronta cosa vuol dire? Vuol dire che la scoliamo due o tre minuti prima della cottura ideale, di modo che finirà di prepararsi in pentola. Aggiungiamo i formaggi. La mozzarella. E anche un pochino di grana per dare quel filo di schiena in più al sapore. Ora mischiamo molto bene il tutto, aspettiamo che i dadini di mozzarella si sciolgano per bene. E stiamo molto attenti perché bisogna girare, direi furiosamente, per evitare che il tutto si trasformi in un monoblocco. Deve diventare molto molto filante. Finalmente la pasta è pronta. Piliamo la forchetta e mangiamocela. Piliamo la forchetta. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.